la guerra dei trent'anni. Benvenuti a questo terzo appuntamento di storia moderna. Parleremo oggi della guerra dei trent'anni. Il nome non ha molti misteri. Si chiama guerra dei trent'anni perché viene combattuta nell'arco di trent'anni. Precisamente dal 1618 al 1648. Questa che vedete nella prima diapositiva è un particolare di un quadro di Ferrer Dalmau che si intitola La battaglia di Rocroa. La battaglia di Rocroa è stata l'ultima battaglia della guerra dei trent'anni. È stata combattuta da un esercito di volontari spagnoli chiamati il Terzio contro l'alleanza costituita dalle province unite dell'Olanda, cioè dalle Fiandre, dai Paesi Bassi e dagli altri stati europei ostili alla Spagna, tra cui anche la Francia. Però per parlare della guerra dei trent'anni chiaramente non possiamo iniziare da questa battaglia ma dobbiamo fare un passo indietro e questo passo indietro ci riporta nuovamente alle guerre di religione. Questa dei trent'anni però non è stata come la guerra dei tre Enricchi, una guerra che è stata soltanto interessante per una nazione perché la guerra dei tre Enricchi ha interessato unicamente la Francia. Questa guerra invece è una guerra che per trent'anni sconvolse tutta l'Europa perciò non è inappropriato definire questa guerra davvero la prima guerra europea. Allora innanzitutto abbiamo da parte delle popolazioni un'enorme sofferenza perché i soldati quando si spostavano in territorio europeo dovevano naturalmente trovare gli approvvigionamenti, trovare i loro viveri, le loro risorse e quindi gli eserciti che fossero amici o nemici, che fossero cattolici o protestanti dovevano mangiare. Per farlo entravano nei villaggi e facevano razzia di tutte le provviste che riuscivano a trovare. Infatti la popolazione cercava di nasconderle oppure scappavale, nascondeva sottoterra, ma questo ha portato naturalmente a fame, a povertà e poi il passaggio di queste truppe di soldati porta anche epidemie, pestilenze. Inoltre quando i raccolti diventano scarsi perché appunto la popolazione è in guerra vuol dire che l'unica prospettiva per molti che erano contadini resta quella di arruolarsi e infatti queste guerre sono le prime guerre europee in cui si fa davvero un utilizzo intensissimo dei mercenari, dei soldati mercenari. Questo che vedete nella diapositiva, questa incisione è chiaramente molto eloquente. Noi vediamo dei malcapitati, dei prigionieri di guerra che vengono impiccati ad un albero. Però questa è stata la guerra dei trent'anni e segnò anche davvero un calo demografico molto importante. Allora dicevamo facciamo un passo indietro e veniamo alle cause e alle origini di questa guerra. Tutto nella guerra dei trent'anni inizia proprio lontano dal cuore dell'Europa, inizia verso est, inizia a Praga, dove ci fu un episodio molto noto che è chiamato defenestrazione di Praga e adesso vedremo di che cosa si tratta. Qui nella diapositiva vedete al centro questa defenestrazione che è proprio in senso letterale buttare fuori dalla finestra, come potete vedere nell'immagine, e parleremo quindi dei tre protagonisti di questo episodio. Da prima Rodolfo II d'Asburgo, poi Mattia d'Asburgo che era il fratello, e infine Ferdinando II d'Asburgo che fu re di Bohemia. Allora, che cosa avvenne? Rodolfo II d'Asburgo doveva naturalmente cercare di mediare, di fare da intermediario in quelli che erano tutti i conflitti che potevano sorgere in un territorio come la Bohemia, che comprende l'attuale Repubblica Ceca a grosso modo, che era un territorio di religione protestante. Tutta la Bohemia, fin dall'inizio della riforma, aderì alla nuova religione protestante. Anzi, forse anche da prima, forse dal tempo del concilio di Costanza, quando venne arso sul rogo Iannus. Iannus era un riformatore proprio della Bohemia, aveva tradotto le scritture in boemo, eccetera. Quindi, l'impero che ufficialmente era cattolico aveva moltissimi protestanti in Germania, soprattutto luterani, e poi aveva moltissimi protestanti anche ad est, in quella che è la Bohemia. Allora, l'imperatore Rodolfo d'Asburgo cerca di mediare questi contrasti, ma naturalmente la cosa è molto difficile. Quindi il paese si rompe, si divide a metà, e c'è da una parte un'unione evangelica, che come dice il nome è protestante, e comprende perciò tutte quelle regioni dell'impero che sono già state toccate dalla riforma, quindi il Brandeburgo, l'Assia, Baden, il Wittenberg e le altre città luterane. L'imperatore Massimiliano di Baviera, invece, fondò la Lega Cattolica, in cui c'erano naturalmente la Baviera, che è un regno da sempre cattolico, che non aderì mai alla riforma, poi c'era Magonza, Colonia e anche Augusta. Notate che Magonza si tratta di Mainz, cioè la città che ha dato i Natali al grandissimo inventore della tipografia, cioè Giovanni Gutenberg.